Salve a tutti i cittadini e benvenuti in questo nuovo video, sono Nestalectric e oggi ragazzi eccoci qui in un nuovissimo video update di Cookie Run Kingdom ma in particolar modo ragazzi quest'oggi nell'update del 2 ottobre 2024 anche questa volta hanno fatto nello stesso giorno l'update di Cookie Run Kingdom e Cookie Run Tower Adventure non capisco il perché distanziateli, è un casino così forse non si accorgono che chi gioca a Cookie Run Kingdom gioca anche magari a Cookie Run Tower Adventure o viceversa comunque ragazzi allora quest'oggi, come feci tempo fa, hanno aggiunto il secondo biscotto folleriro e come feci tempo fa per Mystic Flower Cookie hanno aggiunto lui, ovvero Burning Spice Cookie eccolo dai, eccolo qui, Burning Spice Cookie che ha la sua storia con Golden Cheese Cookie allora ragazzi direi quindi di partire subito con l'update come sempre raga pigliamoci i valorosi premi che ci hanno dato non vedo nulla di nuovo in realtà se non va bene le solite cose per pullare, sì nulla di nuovo probabilmente sarà un update molto simile agli altri allora vediamo un po' gli eventi il Daily Gift per 14 giorni, immaginavo, ci danno sia le formine che appunto le Light of Destruction e infatti Light of Destruction è un evento in cui completando le missioni possiamo ottenere le Light of Destruction e poter pullare per Burning Spice Cookie il Burning Pass, sempre la solita cosa il Path of Destruction che così come fecero per Mystic Flower Cookie se lo otteniamo e lo upgradeiamo a livello 30, la sua skill anche a livello 30 e così via possiamo ottenere altri premi, c'è sia lo stage 1, lo stage 2 ma c'è anche lo stage 3 ragazzi questo biscotto è fantastico poi hanno aggiunto Olive Cookie Expedition cioè noi possiamo utilizzare questi gettoni, questi tool per poter esplorare le varie zone e ottenere dei reward forse sono di mini giochi sapete? ci sono varie ambientazioni poi quest'altro evento è un evento in cui semplicemente andando a completare i livelli del mondo 5 del Beast Yeast otteniamo le gemme che vedete qui e niente ragazzi questo è alla fine direi un attimo di vedere i due nuovi biscotti che hanno aggiunto non uno solo perché oltre a Burning Spice Cookie hanno aggiunto lui o lei ovvero Nutmeg Tiger Cookie che dovrebbe essere tipo noce moscata Nutmeg se non sbaglio direi un attimo di vedere lui Burning Spice Cookie che è un biscotto direte a Beast ed è un Charger diamo un po' la sua abilità che si chiama Tyrant's Wrath bello 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 e anche questo biscotto ragazzi ovviamente man mano che lo upgradiamo al 2 stelle, 4 stelle o 6 stelle otteniamo l'appearance quindi l'aspetto allora diamo un po' l'abilità in cambio della sua propria forza life force la propria forza Burning Spice Cookie rilascia il suo God of Destruction interno quindi la sua divinità della distruzione interna dispelling debuff quindi togliendo i debuff e ottenendo il buff del Berserker quando è trasformato diventa immune a tutti i debuff eccetto che per la maledizione e assorbirà l'attacco di 3 alleati prima diciamo targettando i biscotti con il più basso attacco cioè praticamente si piglia l'attacco degli altri e fa tutto lui Burning Spice Cookie otterrà lo Spice Rampage Buff a dipendenza del target del suo attacco base e otterrà il Rampage Buff dopo aver raggiunto una certa soglia dopodiché lui sbatterà insomma sul terreno questa sua grande ascia facendo danno con il colpo finale l'ascia creerà una pozzanga una piscina di lava per un certo periodo di tempo e farà danno periodico la velocità di attacco e l'attacco dei nemici sono ridotti nella lava quindi man mano che stanno nella lava loro perdono vita e hanno anche l'attacco e la velocità di attacco ridotto mentre il Sarcophagus of Gold e Summons ricevono una grande quantità di danno The Great Destroyer Burning Spice Cookie quindi proprio lui sempre per renderlo solenne attiva la Firestorm quindi la Tempesta di Fuoco periodicamente infliggendo appunto bruciatura a tutti i target escludendo i Safeguarded Cookies quindi praticamente Snap Dragon Cookie Icy Colorietti Cookie e così via e provvedendo il Crit Percentage e il Crit Damage Buff per i suoi alleati in più applica il Destroyer Skates Buff ai biscotti nemici con il più alto attacco una volta che entrati in battaglia Burning Spice Cookie applica il Revelry of Flame Buff sui alleati di tipo Fuoco il quale incrementa il loro attacco e il loro Damage Resistance in base al numero di Burn Stack in più il Crit Percentage di Burning Spice Cookie incrementa in base al numero di target vicini con il con il Burn praticamente quando colpito da Water Type Attack per un certo numero di volte a Burn Debuff is removed vabbè praticamente l'acqua spegne il fuoco se Burning Spice Cookie è sconfitto diventa invulnerabile per un certo periodo di tempo e dispella tutti quanti i debuff danno proporzionale al massimo HP è cappato a 300.000 non male veramente non male è figo e anche forte infatti in arena già sta spaccando allora poi abbiamo un altro biscotto che si chiama Nutmeg Tiger Cookie come ho detto prima ed è un epico ed è un support finalmente un biscotto nuovo dopo un sacco di tempo Nutmeg Tiger Cookie ordina la sua Elite Guard per caricare in avanti l'Elite Guard fa danno di fuoco causando appunto bruciatura cura gli alleati per una porzione del danno inflitto incrementando il loro danno periodico di tipo fuoco e applicando il Great General Buff a tutti quanti gli alleati tipo fuoco e le creature evocate ah per questo summons del Burning Spice Cookie Elite Guard consiste di un rider e dei lottatori il rider causerà danno ad aria con il proprio attacco regolare e curerà il tuo team per una porzione di danno inflitto i fighters invece taunteranno i nemici quindi la provocazione tipo in Pokémon che si fanno attaccare una volta che appunto sono stati evocati li protegge con uno scudo di HP e ottiene un Damage Resistant Buff dopo aver evocato l'Elite Guard Nutmeg Tiger Cookie attaccherà fino a 5 nemici con ogni attacco regolare e ottiene il buff dell'Attack Speed se Burning Spice Cookie è nel team assorbirà la polvere del Fallen Elite Guard e ottiene il Burning Nutmeg Buff è in coppia con praticamente Burning Spice Cookie ragazzi sono due biscotti molto interessanti dalle belle abilità innovative perché ultimamente e forse anche per questo hanno un po' calmato c'erano biscotti che praticamente facevano sempre la stessa cosa e raga come vi ho detto hanno giunto l'episodio 5 del Beast Yeast che sta qui in culo al mondo praticamente comunque ci sta questo Olive Cookie Expedition che non ho capito cosa sono e io non ho capito come ottenere questi ah ok si ottengono in questa maniera utilizzando 50 Stamina Jellies utilizzando 40 Juicy Stamina Jellies e ottenere i Biscuits rari diciamo è più per 3 ok allora vediamo un attimo facciamo un attimo Lost Golden Kingdom ah dobbiamo andare all'esplorazione semplicemente andando a trovare gli oggetti che vedete qui sotto non erano senza hint quindi ok è un semplice acchiappata alpa anzi acchiappare l'oggetto ma è carino allora qua sta il pulcino che l'abbiamo trovato è bella grande la mappa in realtà ah possiamo anche zoomare effettivamente è un po' meglio ok ho trovato questo cottage coso ah ma non cioè pure a caso in realtà devi andare a cliccare tipo qua ad esempio la rana si potrebbe trovare qua ho cliccato e l'ho trovato quindi posso cliccare sul vaso Rabbit Golden Treasure yeah thanks ah grazie ciao ci ha dato questo ok sono anche interagire con i vari personaggi pensavo semplicemente trova l'oggetto e basta ok carina come cosa don't forget you can use hints abbiamo trovato lo spoon dove cazzo stava non l'ho proprio visto oh raga non lo so usiamo l'int ah va a cagare eccolo qua ah l'abbiamo completato e basta molto carina ragazzi come cosa perché comunque alla fine ci danno i premi qui sotto che male non sono eh raga abbiamo finito in realtà eh ok allora vediamo un attimo Burning Spice Cookie eh raga è bello proprio è veramente bellissimo come biscotto e raga funziona sempre allo stesso modo 250 pull otteniamo il garantito e ogni milestone otteniamo i premi che vedete qui e abbiamo vari run per poterlo ottenere in più copia fino a un totale di 15 run che insomma chi che è che ci riesce penso nessuno di umano allora facciamo un attimo le pull raga classiche qua proprio oramai veramente skip cioè se già prima skippavamo qua veramente proprio però non mi far fare il doppio skip queste formine veramente non servono più hanno aggiunto il fire gacha e il water gacha oltre a quello lì di nutmeg tiger cookie ovviamente noi ragazzi andiamo a fare nutmeg tiger cookie andiamo un po' perfetto iniziamo benissimo non c'è niente non so come sarà nutmeg cookie eh però noi proveremo a fare un po' di pull andiamo un po' se lo troviamo ok uno solo intanto di epico magari sarà proprio nutmeg cookie andiamo un po' se è nutmeg cookie e niente ciao dio si è lei lui lei la forza è tutto però raga è bella suppongo bello non ne ho idea non ho visto se è maschio o femmina credo sia femmina non lo so forse è maschio penso sia femmina si vabbè comunque swarm prepare to attack ok vabbè intanto raga l'abbiamo ottenuto continuiamo altro epico per noi andiamo un po' quanti ne sono ok sempre uno ne ho un po' no 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 wow potremmo ottenere vabbè cioè va bene però potremmo ottenere burning spice cookie è la seconda volta che lo trovo si va bene non me l'aspettavo per niente va bene mi va bene così mi va bene così continuiamo boh non lo so non ne ho proprio idea hanno aggiunto qualcosa qua no che capire non vorrei pullare inutilmente lo so che le gemme le abbiamo ma che me frega cioè senso eh raga burning spice cookie raga guardate qua è già al massimo fortunatamente in sto gioco non c'è la necessità di andare così in alto di livello però che brutto vabbè fa niente non fa niente non fa niente ah hanno aggiunto un nuovo site di decorazioni ragazzi vabbè oramai non ci faccio più caso abbiamo 20 pull da fare raga per quanto riguarda questo banner ok solo ginger brave un po' preoccupato come lo sono io adesso che non troviamo un cazzo e infatti un cazzo proprio andiamo un po' le prossime ok epico che ci stava sia pure vanilla che white lily cookie dai uno solo ok vediamo un po' dai 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 sarebbe bellissimo trovare due biscotti beast nello stesso video dai 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 ovviamente no ovviamente no va bene claire cookie vabbè si ragazzi poi hanno aggiunto i nuovi biscuits che servono principalmente per i biscotti tipo fuoco e quelli di tipo terra e poi hanno aggiunto i nuovi resonant topping e alcuni bilanciamenti nulla di che insomma il grosso ve l'ho fatto già vedere ragazzi quindi considero spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto se questo ragazzi sai cosa fare lasciantissimo commentate condivideteci un po' questo video attivate la campanella per i miei giornali appunto sui feed di video seguite i community per i miei giornali sulla programazione iscrivetevi se non è ancora fatto e così ragazzi arrivederci a tutti i miei giornali